Ridurre i tempi di attesa, un tema ricorrente in ambito sanitario che ritorna anche ai tempi del coronavirus. Il governatore Enrico Rossi ha posto l'asticella della fase 2 ancora più in alto. Cogliere l'occasione per riorganizzare, migliorandolo, il sistema sanitario regionale e aggredire il problema delle liste di attesa, che con la sospensione di molte attività per due mesi si sono già allungate con il rischio di un peggioramento. Per questo e per limitare la compresenza di operatori, gli ospedali e i presidi territoriali dovranno essere operativi per 12 ore al giorno, dalle 8 alle 20, sabato compreso. Richiamando la delibera del 17 dicembre del 2018, la ripresa della libera professione per i medici, sarà autorizzata dopo raggiungimento dell'obiettivo di un tempo di attesa per le visite ambulatoriali istituzionali programmate. Per ridurre la pressione sugli ospedali, inoltre, la nuova ordinanza consente ai medici ospedalieri di spostarsi per le visite nei presidi sanitari territoriali. Questo consentirà anche di non congestionare le sale di attesa, che per evitare assembramenti non potranno riempirsi. Gli appuntamenti per le prime visite avranno orari cadenzati. Per i controlli e i follow-up si ricorrerà alle visite telematiche.